Le pratiche sono ancora in corso ma sembra proprio che il cassa di Macerone abbia i minuti contati. Potrebbe arrivare già nelle prossime ore l'ordine di chiusura del centro accoglienza che mercoledì scorso è stato oggetto di un'espezione di Asle della Polizia Municipale in seguito alla denuncia dell'Associazione Romagna Migrante che negli ultimi anni ha raccolto la richiesta d'aiuto degli ospiti della struttura. Ne è emerso un quadro che parla di condizioni igienico-sanitarie precarie con i migranti costretti a vivere in mezzo a topi e insetti e senza riscaldamento come documentato anche da alcuni video girati dagli stessi inquilini. Ospiti che al momento sono 25 e per i quali anche una volta decretata la fine del centro servirà del tempo per organizzare il trasloco in altre strutture. Nel frattempo continuano le proteste prima fra tutte proprio quella di Romagna Migrante che lamenta un ritardo nell'intervento. Il settore igiene pubblica dell'Asle viene informato da anni della situazione scrivono in un comunicato nel quale si scagliano poi con la Croce Oro che già nel 2017 aveva chiuso uno dei suoi centri a seguito di un controllo. Croce Oro che in questi anni ha fatturato milioni con i soldi pubblici rincara la dose Vittorio Valletta candidato sindaco per Cesena siamo noi soldi dei quali chiederemo conto nel prossimo consiglio comunale.